scherzando se poi fai un auguri angelo poi glielo mando io sarebbe un piacere ciao angelo so che compi gli anni mi raccomando non invitare più giorgio le feste perché te le rovina se le fa tutte lui da oggi in poi in vita a me ok auguri guarda che quello fa veramente poi guarda lui è una di quelle persone che io ha falsificato una volta la sua patente per sembrare più grande per andare con una milf cioè è tipo le tro trova tutte le peggie i peggies camotage tra l'altro questo per chi lo conosce o magari in chat lo saprà questa cosa ti racconto questa storia ma lui ne ha fatte di cotte e di crude veramente cioè è incredibile e tra l'altro ti ho confermato ma li fai i cazzi tu mi ha detto che mi devo fai i cazzi miei mi ha detto orco 2 no 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 il gioco il gioco ci sei forse si richiappa come a me che è successo eri tu quello fermo in aria alla fine quello sotto mi sparava bro ma io mi stavo muovendo bro ma io mi stavo muovendo eri tu quello grasciato da me ma che cos'è questa cioni venite il cuore fresciare fresciate tutti con calma cellate cellate abbiamo noi abbiamo il vantaggio aria ma che cazzo sta succedere vietnama uno sul barili sui barili tento di non vedo un cazzo non vedo un cazzo c'è troppe esplosioni l'ho fingato l'ho fingato no che cazzo sta succedendo la bagone è venuta aspetta 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 gli ho tirato il bambato lento gli ho tirato il bambato lento ma ce ne avevo uno o due l'ho fatto e non mi troppo l'hanno fatto aspetta l'ho fatto minuti l'hanno fatto l'ha fatto l'ha fatto l'ha fatto l'ha fatto l'ha fatto lui vai 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 ci sono tutto me lo calca rassatelo è nessuno mi pare sta ma già la maschera me ne so divertito me ne so divertito anche perchè ho tragiandato quindi oh guarda ci sta un amico dei regrent eh l'ho salutato bro l'ho salutato ah tra l'altro devo mettere la storia cazzo approfitto bravo bravi domani 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 è tosta Jack aspetta chi ci sta domani eh no aspetta perchè Giorgio non è mutato non mi vale non mi vale far Jack il settimo della situazione è bastato aspetta però di questo no no che schifo ragazzi ragazzi ha scorreggiato Jack regà no no ci bandano ci bandano ci bandano porca tronze che bomba che ho tirato che schifo ragazzi questa è la pasta e faccio io mi dissocio audio è qua regà è verso scuola c'è uno veramente è droppato no no ma 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 ha droppato veramente uno non ci credo ma mi sa credendo ha droppato veramente è stato più comica però ma dalla mia visuale c'era Axel che è uscito sparando a tromba ma io zì allora guardami allora conta che questo ero io da questa porta ok sfondiamo qua ok non si vede un cazzo è tutto bianco allora io davanti a me allora io davanti a me ora ho fatto il f4 vabbè ho fatto il f4 invece di il f3 a te da bambino non ti hanno picchiato abbastanza comunque lo dico io stavo dicendo davanti c'ho la stanza davanti a me magari da stammi padre oddio no che cazzo ho preso vabbè è fine è fine che è sta roba va bene no no ti stanno busciando tranquillo oh cazzo se tu ne giochi a Tarkov dovresti capire un attimo alti sì vabbè sì lui l'ho visto buttato no io ho gioco ho ucciso pure io un player qua a scuola ce n'è un altro però no è tutto silenzioso qua io credo che sia andato dietro so io che corro vado a vedere questo che aveva ok no scherzone è arretrato in corsa oh sono io fermo fermo che cazzo ho salvato la vita coglione ma ma dov'è questo che spara ragazzi allora io la clip io la clip ve la farei vedere mi ha lockato la testa quando mi ha knockato ha spostato la mira col cecchino però mi ha missato non affidabile il mondo è niente poi non lo so quella clip è un po' sporca san cesareo al momento cioè quella clip è cheating palese ok oh cos'è oh oh e tu madre però fai i tortellini col cucolo ok sono entrato sono entrato due la mia era combatterà per contare in azione madonna ma che cazzo ho fatto ma cos'è cazzo ho fatto oh calma di che gli hai fatto bestia l'ho puliti diamati no il tj si dai è uno dei pochi mi piaceva ancora vivo ragazzi ripeto se volete ripetizione di matematica sono disponibile su zoom ci mettiamo d'accordo con paypal mi raccomando a roccia è vado sopra ma no è roccia o è sopra è a 30 metri dal saldo in mezzo alle frasche devo far mio stomaco così che sto distrutto è più vicino perché io qua non lo vedo non capisco non capisco che lo facciamo vedete hai presente il casottino di legno si non lo vedo è lì io già ho detto che ne ho fatti due contamuno stavo senza cazzo si no infatti davvero Giorgio ragazzi la pistola è la piastra e vede tutto il fight guadagnati la liberta al soldato si rimane in volo chiedo scusa ho premuto il tastino magico de dragonica ho premuto il tasto magico de dragonica è pronto già questo qua secondo piano secondo piano belli sti server server teletrasporta parato a sinistra porco due l'ho ammazzato uno uno l'ho ammazzato sulle scale